Supermercati Poli, le news del risparmio! Occhi puntati sui protagonisti della merenda dei più piccoli con Kinder Brioche al prezzo di soli 1,99€ e yogurt 100% naturale della latteria Merano scontato del 50% a soli 59 centesimi per ogni confezione da due vasetti. Grandi notizie nel carrello dei supermercati Poli.